Ciao, Gabby. Salve. Forse hai dimenticato che so difendermi molto bene da sola. Sei stato tu il mio maestro, no? Grazie di avermelo ricordato. Ma quello ormai è tempo passato. L'hai voluto tu, non hai saputo amarmi. Ed ora non ho alcuna intenzione di ricominciare, è finita. Ti ho amato veramente, lo confesso, ma una volta. E se ora sto qui con te è esclusivamente per ragioni di lavoro. Sono stata chiara? Stai pronto per le nove. Bye bye. Ciao. 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 Sì. Avanti. Sono le otto. Il suo caffè, signor. Sì. Avanti. Salve. Buonasera. Siete sicuri che nessuno vi abbia seguito? Sì, questa volta sono sicurissimo. Certo, non immaginavo che fossero così ben informati, però se trovo quel tale che mi ha picchiato in testa... Qui staremo tranquilli almeno per un po'. Guarda, abbiamo preparato tutto. Dunque, noi ci troviamo qui. La macchina dovrà fermarsi in questo punto preciso. Qui. 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 Qui.